Vasta operazione interforze di polizia, carabinieri e guardia di finanza nel Napoletano. Circa 200 agenti hanno setacciato territori nei comuni di Caivano, Afragola e Casoria, eseguendo una serie di perquisizioni e controlli alle persone sottoposti a misure cautelari. A Sant'Anastasia i militari hanno arrestato per detenzione di arma clandestina un 33enne incensurato del posto. Nella sua in una busta di plastica era custodito un fucile semiautomatico calibro 12 con canne mozzate e matricola brasa, perfettamente funzionante. Nelle stesse ore gli investigatori di Castello di Cisterna, nella 219 di Pomigliano d'Arco, con il supporto del nucleo cinofili, hanno perquisito le aree comuni delle palazzine popolari. Durante i controlli sono state trovate una pistola semiautomatica completa di caricatore e munizionamento, una pistola a tamburo modificata e 26 munizioni di vario calibro. Infine a Somma Vesuviana, blitz nel parco di edilizia popolare Fiordaliso, è stata sequestrata una pistola beretta con matricola brasa nel caricatore 9 proiettili.